Ci facciamo spiegare che cosa è successo da un Divaio con la maglia di Viviano molto lunga, però un po' grande. Cosa è successo Marco adesso? Visto che c'era un po' di parapiglia abbiamo cercato di dividere, c'erano un po' gli animi un po' accesi, era una partita molto nervosa. Però dai, è importante che abbiamo vinto, è importante che abbiamo fatto una grande partita e abbiamo portato a casa il risultato fondamentale. I soliti, dico io, due gol di Divaio più il gol, il primo in Italia di Ramirez che valgono 28 punti in classifica. Sono 28, no? Sì, sul campo sono 28, purtroppo ce ne abbiamo di meno, però dai, è importante che oggi era fondamentale vincere. Abbiamo adesso due partite in casa e domenica prossima con la Roma, sappiamo che è difficilissima, però oggi era fondamentale per noi. Una reazione, soprattutto mentale, dopo il gol del vantaggio della Lazio, incredibile. Penso che dopo il primo tempo abbiamo rischiato qualcosa, nel secondo veramente zero, abbiamo controllato molto bene la partita, abbiamo fatto grande pressing, grande coraggio, grande cuore. Penso che questa squadra ha una forza morale e mentale incredibile. Vabbè, poi con un capitano così. Sono bravi ragazzi, devo dire che seguono, andiamo a dire al mister che è importante.